Pre-match Palermo-Geno. La prima giornata archiviata, vittoria facilissima 6-0. Seconda giornata con il Genoa, che è un osso duro perché ha impensierito la Roma per almeno più di un tempo. Siamo con Francesco Caruso, il capitano Alessio Caruso e Pietarresi. Come vedete questa partita stasera? Difficilissima. È un difficile. No, noi non lo conosciamo come squadra. Non lo conoscete. Ovviamente... Ci mettiamo tutte, vero? Sì, sicuramente vinciamo. Sicuramente vinciamo. Obiettivi quest'anno? Fare meglio di l'anno scorso? Sì, pensiamo di sì. Quindi lottare per la Champions quest'anno, almeno per la Champions. Va bene ragazzi, buona partita.